Ciao a tutti da Bonsai Italia, ben trovati e andiamo avanti con i nostri video. In questo nuovo video parleremo di un argomento che abbiamo già trattato il primo anno che abbiamo iniziato a fare video, è stato uno dei primi video, però abbiamo deciso di riproporlo in una nuova veste con più informazioni e soprattutto perché molte persone hanno riscontrato questo problema con le loro piante. Quindi parecchie persone ci hanno chiesto questo tipo di informazione e quindi siamo qui proprio per voi, per aiutarvi a risolvere questo tipo di situazione. Di cosa si tratta? Si tratta praticamente di cosa fare quando si acquista una nuova pianta, quindi un nuovo Bonsai. Molte persone non hanno praticamente nessun tipo di attrezzo, quindi né forbici, né anche annaffiatori per annaffiare, non hanno praticamente nulla, perché magari il Bonsai gli viene regalato oppure magari capita che in una giornata trovano anche magari sia in un vivaio oppure in qualche bancarella una pianta e decidono di acquistarla, però poi tornati a casa non sanno praticamente cosa fare di lei, come trattarla. Allora in questo video parleremo proprio di questo, di come si presenta la pianta durante il nuovo acquisto e soprattutto come annaffiarla con un metodo alternativo. Questo metodo alternativo è la bacinella, quindi la pianta va annaffiata per immersione. Vedremo come si fa, quali sono le modalità, per quanto tempo la pianta dovrà rimanere dentro la bacinella, perché non tutti sanno delle cose a riguardo. Quindi è meglio chiarirle proprio perché questo tipo di annaffiatura non la consigliamo, nel senso che è un'annaffiatura sbagliata, perché la pianta deve essere annaffiata con un annaffiatoio dall'alto e quindi l'acqua deve uscire dal foro di drenaggio. Quindi questo tipo di annaffiatura va fatta in determinati casi, come questo, come potrebbe essere ad esempio quando la pianta ha avuto un colpo di secco, quindi ad esempio quando ci dimentichiamo di annaffiarla magari per uno o due giorni e la terra è completamente secca e le foglie hanno subito un afflosciamento, allora in quel caso può essere utile, anzi va affatto, questo tipo di annaffio, altrimenti no. Quindi mi raccomando questa cosa è da tenere a mente. Più avanti nel video vedremo proprio perché. Allora, innanzitutto, di fronte a voi, oltre a vedere la bacinella, vedete delle piante, sono due cotonaster, due cotonaster mame, abbiamo già parlato del mame, e successivamente vedremo ancora il mame, proprio come effettuare la potatura del mame sulla pianta che abbiamo trattato nel video precedente, ovvero sul ficus. Quindi vedremo anche quello. Allora, le piante sono queste qui, ora ve le facciamo vedere più in dettaglio. Eccola qui. Allora, queste qui praticamente sono piante che a noi arrivano in questo stato, cioè con vasi sovradimensionati, la terra è praticamente compattissima, secca, addirittura sopra si è formato anche del muschio, e praticamente se noi adesso andassimo a annaffiare la pianta con un annaffiatoio dall'alto, l'acqua scivolerebbe all'esterno. Perché? Perché qui si forma come una crosta che non permette alla pianta di assorbire l'acqua. Quindi, oltre a impiegarci parecchio tempo, la pianta, scusate, non assorbirà l'acqua nella maniera adeguata. Quindi va messa assolutamente nella bacinella. Oltre questo, la pianta andrà potata, quindi vi faremo vedere anche come potare la pianta quando acquistate una pianta. Quindi quelle operazioni che vi permetteranno di avere la pianta nelle migliori condizioni. Ovviamente, per quanto riguarda l'immersione nella bacinella, adesso noi vedremo come si fa. Ci sono delle varianti e vedremo adesso nel video quali sono. Comunque, adesso noi prendiamo la pianta, innanzitutto poi il vaso è leggero, quindi sappiamo che dentro non c'è acqua. Quando il vaso, la pianta è leggera, voi sollevate, la vuol dire che la pianta deve essere annaffiata. E quindi effettuate l'operazione di annaffiatura. Allora, innanzitutto, prima di mettere la pianta nella bacinella, ok. Ok, adesso andiamo a mettere la pianta nella nostra bacinella. La lasciamo completamente. Allora, come potete ben vedere dall'immagine, tutte quelle bollicine che voi vedete, che stanno avvenendo su, non è altro che l'aria che è presente dentro la pianta. Quindi, praticamente, l'acqua adesso entrerà all'interno della pianta e appena che vediamo che le bollicine smettono di venire fuori, a quel punto possiamo, praticamente, tirar su la pianta. Quindi, quello è il momento dove possiamo, praticamente, tirar su la pianta. Aspettiamo qualche minuto, proprio per sicurezza, e la tiriamo su. Non dobbiamo tenere la pianta dentro la bacinella per 20-30 minuti, assolutamente. La pianta va tirata su non appena le bollicine di aria che vediamo non vengono più su e, praticamente, l'acqua è entrata alla perfezione e quindi possiamo tirare su la pianta. Ovviamente, con questo tipo di terreno, noi abbiamo, praticamente, completamente messo la pianta nella bacinella. Quindi, l'acqua sta, praticamente, sopra il vaso. La ricopre quasi completamente. Nel caso, invece, voi abbiate la pianta e, speriamo, che molti di voi ce l'hanno coltivata in Akadama, non potete fare questo tipo di discorso. Nel senso che, sì, potete raffiarla con la bacinella se ha subito, ad esempio, un colpo di secco, va fatto, però l'acqua deve fermarsi sotto il bordo. Quindi, non deve andare sopra, altrimenti, si dilaverà via tutta la terra. Questa è una considerazione importante, praticamente, da fare. Un'altra considerazione da fare è che, una volta, scusate, che se avete, per esempio, la pianta coltivata in Akadama, ma sopra c'è del muschio o dello sfagno, allora a quel punto potrete mettere la pianta completamente immersa, perché lo sfagno e il muschio proteggeranno la terra e quindi non verrà di lavata via. Allora, a questo punto la pianta è annaffiata, sta bene così. Comunque, adesso, noi la lasciamo ancora nella bacinella perché vogliamo parlarvi nel frattempo di un altro argomento. Quindi, adesso la pianta la lasciamo qui, andiamo avanti, l'ingiallimento. Allora, questa pianta qui ha questo tipo di ingiallimento. Perché ha questo tipo di ingiallimento? Perché la pianta ha una mancanza di microelementi. Sono degli elementi che praticamente fanno parte del terreno. La pianta non li trova nel terreno perché magari il terreno è molto molto vecchio, sicuramente, non è stata, sarà stata anche poco concimata e quindi la pianta ha questo tipo di problema. In questo caso avrete due strade per migliorare questo, per evitare questo problema, quindi per farla ritornare verde. O somministrate alla pianta un fertilizzante con microelementi, li trovate in commercio, oppure, e questa secondo noi è la soluzione migliore, è quella di andare a sostituire parte della terra che sta nel terreno, proprio come vi abbiamo fatto vedere nel post dedicato per dare nuovo vigore alla pianta, c'è proprio un post su Facebook che riguarda questa cosa qui, quindi mettendo terra nuova, la pianta riacquisterà nuove risorse, quindi nuovi microelementi e questo problema qui andrà pian piano a svanire. Ok, detto questo, adesso tiriamo fuori la nostra pianta, eccola qui, bella annaffiata, il peso è notevole, quindi adesso ha un peso veramente grande la pianta perché è carica d'acqua, a questo punto come facciamo sempre vedere noi come vi abbiamo insegnato dopo l'annaffiatura e questo fatelo ogni volta, anche se effettuate l'annaffiatura per immersione va tolta l'acqua, quindi noi la giriamo e facciamo uscire, eccola qui, l'acqua veramente in eccesso, adesso ne scende veramente poca perché la pianta era veramente secca, era veramente asciutta, quindi più è asciutta e meno acqua in eccesso poi uscirà quando andrete a praticamente far uscire l'acqua, quindi questo a secondo di quanta la terra sia asciutta all'interno del vaso. Ok, fatto questo, la pianta è a posto e praticamente adesso non dobbiamo fare altro che andare a sistemare la pianta, quindi con attraverso la potatura, quindi per quanto riguarda la potatura, potatura molto molto semplice, i rami lunghi che escono dalla silhouette della pianta vanno accorciati, quindi qui ad esempio dove c'è la nuova cacciata che la pianta ha prodotto lasciamo tre foglie e andiamo a effettuare la potatura anche qui proprio per riportare ordine nella pianta andiamo a accorciare anche tutte le cacciate che vanno verso l'alto questa qui è l'operazione da effettuare sulla pianta la pianta non può avere queste cacciate così lunghe altrimenti poi il prossimo anno vi ritroverete la pianta con cacciate lunghe e quindi poi magari andrà a fare la fioritura su cacciate molto lunghe invece deve avere le cacciate più corte possibili proprio per far sì che poi il fiore sia nella parte più interna della pianta anche qua lasciamo tre massimo quattro foglie ovviamente se ci servirà qualche ramo per farlo ingrossare non lo andremo a togliere ma lo andremo a lasciare proprio perché così la pianta ingrosserà quel ramo soprattutto se è un ramo basso ecco qua questo qui è un mame che ha un ottimo potenziale molto bello il tronco un ottimo movimento buona conicità sono tutte caratteristiche che fanno sì che che praticamente possiamo prendere la pianta all'acquisto vedete sembra proprio un piccolo albero in miniatura ha veramente un ottimo potenziale questa pianta qui per quanto riguarda invece molte persone quando ovviamente durante l'acquisto quando tornano a casa vogliono subito rimbasare la pianta ovviamente adesso non si può fare perché siamo in estate ovviamente se vi trovate nel periodo primaverile potete farlo quindi potete in questo caso poteva essere anche oltre che potata poteva essere anche rinvasata e quindi magari messa su un vaso molto più basso più idoneo alla pianta adesso invece non possiamo farlo perché è estate quindi dobbiamo portare la pianta in questo stato fino al prossimo anno quindi alla prossima primavera al massimo che possiamo fare come vi abbiamo detto è quello di togliere e di pulire il terreno questo siffatelo quindi pulite un po' il terreno togliete queste erbacce che non servono a niente questo è molto importante pulire bene la terra e quindi la pianta riuscirà a respirare anche meglio se avete questo problema con le foglie potete sostituire parte del terreno mettere la cadama quindi terreno nuovo questo aiuterà la pianta a avere un verde della chioma molto molto bello nel giro di 10-15 giorni e soprattutto riuscirete ad annaffiare correttamente perché l'acqua con l'annaffiatura tradizionale avendo a cadama terra nuova fino a questa parte del vaso qui perché dovrete togliere 2-3 cm al massimo l'acqua entrerà meglio e riuscirà a scendere bene nel foro di trenaggio infatti se noi guardiamo adesso sotto qua sotto il foro di trenaggio non c'è nella retina e nel filo di fissaggio quindi non è neanche fissata e qui è praticamente completamente compatta la terra e quindi c'è anche difficoltà nell'annaffiatura quindi queste qui sono le cose da fare quando acquistate una nuova pianta può essere sia una pianta di piccole dimensioni che di grandi dimensioni quindi mi raccomando queste qui sono le cose da fare con l'acquisto ok il stesso discorso va fatto con l'altra pianta la prendiamo anche questo qui è un ottimo un ottimo un ottimo mame di cotonaster molto molto bello interessante e l'andiamo a mettere anche qua nell'acqua vedete che fa tutta questa serie di bollicine come visto nella pianta precedente una volta che avrà terminato di effettuare questo tipo di bollicine che escono l'aria che si trova all'interno della pianta la tiriamo su e la pianta è annaffiata anche qui andremo a fare la stessa cosa andremo a potare la pianta lasciando tre massimo quattro foglie per ramo dopo ha fatto le cacciate nuove e quindi queste qui sono le cose da fare ve le abbiamo dette speriamo di essere stati chiari con il video e basta se avete altre domande fateci vedere tranquillamente siamo a completa disposizione ok un saluto da parte di Bonsai Italia ciao e noi ci vediamo nei prossimi video